Ah ma sai schiacciare pure? Ma io schiaccio e mi metto nella mia posa migliore Che sarebbe col cuore Barbaratù, come fai? Barbaratù! Spieghiamo, spieghiamo Dai, dai, dai Io sono un nome dell'unità rossiagra E' un nome dell'unità rossiagra Questa è napoletana, questa è di Bari E' Franco, lo sono poche E' tutto fisicato E' Valerio Questi partono per l'isola dei famosi Ma lui è più bello di me? No, partono, no, tu sei molto più bello Tu vali per tre veramente, mi stai schiacciando qua Ma i due tornano Specifichiamolo che i due tornano Uno resta Scusami, rifai il video che facevi di Barbaratù? Barbaratù! Ma com'è mai? E' veramente chic E' veramente molto chic Barbaratù è chic E' chic E' chic E' chic E' ci provoca uno shock Grazie.